Radio Chris Chris si prepara Info Napoli 24. Buon pomeriggio mister, sono qui. Buon pomeriggio, nascosto là. Andiamo. Mister, nelle recenti due settimane si è fatto un gran parlare del posizionamento di Stanislav Lobotka. Si è fatto anche riferimento ad una statistica, non è vero che questo ragazzo sta giocando meno palloni rispetto alla passata stagione, ma semplicemente occupa una posizione un po' diversa rispetto alle scorse stagioni. E' contento di come Stanislav sta interpretando il 4-3-3 come lo intende Rudy Garcia? Soprattutto abbiamo visto un Lobotka ritrovato sul piano fisico, anche lui contro la Lazio, è stato il migliore in campo e al centrocampo. Abbiamo ritrovato un Stan capace di far giocare gli altri, equilibrare difensivamente la squadra, a parte lui come gli altri, i due episodi di contropiede a Lazio tra il minuto 60 e il minuto 75, però Stan lo vedo bene, è veramente un giocatore importante e quindi come lei ha detto, tocca, toccherà palloni come l'ha fatto nel passato, sapendo che non è che giochiamo con tre squadre che non guardano che sono le qualità del Napoli e se c'è un giocatore un po' da bloccare, da prendere, per esempio domani a Genoa troveremo normalmente un centrocampo avversario che farà marcatura individuale, non solo sull'obotka però forse anche sui due altri centrocampisti, ci dobbiamo adattare. Non è importante se Stan non tocca 100 palloni, basta che gli altri le toccano e le usano bene. Poi benvenga se Stan si smarca bene, tocca molti palloni e fa giocare la squadra, allora va bene, però già vi ho spiegato che avere un piano solo è molto pericoloso. Se hai solo un centravanti che ti mette 40 gole e gli altri 0, il giorno che ti manca il centravanti è complicato. Se hai solo un giocatore per far uscire la palla da dietro e che non c'è perché è infortunato, allora sei in difficoltà. Io voglio 11 giocatori in grado di costruire il gioco, almeno 7 dietro i 3 attaccanti e anche tutta la squadra in capacità a fare dei gol, così saremo più pericolosi da tutte le parti. Non so se ho risposto bene, però questa è la mia idea.